Buonasera a tutte e a tutti, questa sera abbiamo l'onore di lavorare con noi, un ospite importantissima, davvero un onore perché si tratta di una scienziata di altissimo livello assoluto e di fama mondiale, la dottoressa e professoressa Patrizia Caraveo, la ringraziamo tanto davvero di cuore professoressa per aver accettato l'invito di Francesca Faedi, grazie di cuore. Alcune note biografiche che sicuramente non sono sufficienti per quello che lei ha fatto per la scienza italiana. Dirigente di ricerca all'Istituto Nazionale di Astrofisica, ha diretto lo IASP a Milano, Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica, tra l'altro fondato nel 69 dal professor Giuseppe Chialini, per i contributi dati alla comprensione dell'emissione di alta energia delle stelle di neutroni, ha ricevuto nel 2009 il Premio Nazionale Presidente della Repubblica e nel 2021 il Premio Enrico Fermi della Società Italiana di Fisica. Nel 2014, Women in Aerospace le ha conferito l'Aussending Achievement Award e nello stesso anno è entrata nella lista degli Highly Insighted Researches. Fa parte del gruppo 2003 per la ricerca scientifica e delle 100 donne contro gli stereotipi. Nel maggio 2017 è stata insegnita dal titolo di commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Buonasera e benvenuta professoressa. Buonasera. Con questo curriculum così importante vorremmo innanzitutto incoraggiare i nostri giovani e avere da lei un ricordo, un'immagine di quella che era la giovane Patrizia quando ha iniziato il suo percorso di studi, che aspirazioni aveva, che cosa si aspettava e come intende incoraggiare i ragazzi che vorrebbero in qualche modo intraprendere una carriera così importante come la sua. Devo dire che onestamente io non mi ricordo che cosa mi aspettassi. Io amavo moltissimo studiare, mi piaceva pazzamente quello che facevo, avevo deciso di fare fisica proprio perché mi entusiasmava la materia. avevo dovuto vincere una specie di braccio di ferro con mio padre che aveva una visione utilitaristica dei figli forse e pensava che aveva capito che io sarei stata l'unica dei suoi tre figli ad andare all'università e che quindi secondo lui la cosa migliore da fare era che facessi medicina perché un medico in famiglia è sempre utile. Io invece dissi che per carità medicina era estremamente interessante ma non era quello che mi entusiasmava e quindi lui ci mise un po' prima di accettare questo fatto ma poi capì che quello era il mio futuro e quindi mi ha sempre supportata. diciamo così. Quindi per continuare che cosa volevo fare? Onestamente non ve lo so dire perché in un certo qual senso è stato, se vogliamo il caso, la fortuna che ha deciso per me nel senso che io facevo come i miei colleghi un certo numero di corsi seguivo degli insegnamenti e quindi c'è stato un insegnamento che mi ha assolutamente affascinata si chiamava Fisica Cosmica ed era dedicato allo studio dei raggi cosmici i raggi cosmici sono questa pioggia di particelle accelerate che colpisce continuamente la Terra noi siamo attraversati continuamente da particelle accelerate e questo soggetto è un fantastico soggetto che mette insieme lo spazio, il cosmo con la Terra anche perché i raggi cosmici sono stati la sorgente delle particelle accelerate per decenni prima che i fisici imparassero a fare gli acceleratori quindi tantissimo dello sviluppo della fisica viene dai raggi cosmici e allora io mi sono entusiasmata di questa cosa il professore che faceva il corso in modo straordinario però mi ha detto io non ho tesi da dati perché io gli avevo chiaramente chiesto la tesi però mi ha suggerito un collega che stava lavorando su un satellite europeo che era appena partito che si chiamava Cosby che studiava i raggi gamma allora i raggi gamma hanno delle interazioni cioè sono strettamente connessi con i raggi cosmici perché sono i raggi cosmici che interagendo con la materia intestellare fanno i raggi gamma e quindi ho scelto di fare questa tesi e da questa tesi è venuta poi tutta la mia carriera che è cominciata con l'astronomia gamma poi è andata avanti si è aperta all'astronomia X all'astronomia ottica diciamo ho fatto molte cose ma se dovessi dire che sapevo quello che avrei fatto fino dal giorno 1 della mia entrata in università direi una bugia colossale e quindi questo come tanti giovani non sanno il primo giorno di università e quindi è dimostrazione che se ce lo dice una scienziata di fama mondiale ragazzi e ragazze non perdete la speranza insomma siete incoraggiati da questo bellissimo messaggio della professoressa io approfitto perché vedo dietro di lei che ho qui con me quello che ora sappiamo se non sbaglio dove c'è un suo scritto tutte le volte che la scienza ha cambiato idea a me è colpito molto professoressa l'aneddoto in cui lei racconta di Quintino Sella che ha aiutato Chiaparelli dicendo che era importante un finanziamento che né nella destra né nella sinistra diciamo poteva in qualche modo ostacolare ci vuole raccontare quell'aneddoto e quindi quanto sia importante un incoraggiamento anche dal pubblico verso la scienza certamente Chiaparelli era direttore dell'osservatorio di Brera a Milano e bisogna dire che era un astronomo molto famoso e molto noto in giro per il mondo Chiaparelli è l'astronomo che ha capito la natura delle stelle cadenti cioè ha capito che le stelle cadenti sono in effetti pulviscolo cometario che le comete diciamo seminano tipo pollicino nella loro orbita e quando la Terra incrocia l'orbita di queste comete le comete non ci sono perché passano ogni n anni diciamo così ma c'è questo addensamento di polvere e quindi Chiaparelli aveva capito che i vari sciami delle stelle cadenti sono in effetti l'incontro della Terra con le orbite di alcune comete questo era stato un risultato piuttosto importante e quindi devo dire Chiaparelli era veramente uno scienziato molto molto noto al di fuori d'Italia e per caso Chiaparelli una sera dall'osservatorio di Brera quindi nel centro di Milano però dobbiamo pensare che siamo in 1870 c'è qualche lume a gas quindi la città non è particolarmente brillante e lui guarda Marte e ne rimane affascinato e guarderà tutte le volte che potrà durante le opposizioni l'opposizione di Marte è il momento nel quale Marte è allineato esattamente con la Terra e il Sole quindi è di notte ed è il momento nel quale è più facile da osservare perché è il momento nel quale è più vicino alla Terra quindi Schiaparelli comincia a fare osservazioni di Marte ma poi si rende conto che insomma vedeva qualche cosa nel globo di Marte aveva chiaramente delle strutture ma sentiva il bisogno di avere uno strumento migliore quindi il desiderio di avere uno strumento migliore lo accomuna agli astronomi odierni a tutti gli scienziati tutti vogliono sempre avere uno strumento migliore vuole comprare un telescopio tedesco di di grande prestazioni e ovviamente ha bisogno di un finanziamento straordinario il finanziamento che riceve l'osservatorio non è neanche lontanamente vicino a poter coprire questa spesa quindi ovviamente chiede al Parlamento di avere un finanziamento straordinario e quando diciamo si fanno questi tipi di approcci istituzionali deve essere il ministro della in questo caso dell'università e della che doveva della ricerca doveva portare al Parlamento le istanze di Schiapparelli il ministro non c'è e quindi per non perdere tempo Quintino Sella che era amico di vecchia data di Schiapparelli entrambi piemontesi entrambi ingegneri idraulici quindi entrambi molto interessati alla tecnologia prende la parola allora Quintino Sella è noto come il ministro che ha chiesto lacrime e sangue per arrivare al pareggio di bilancio il ministro della tassa sul macinato che aveva fatto venire terribili problemi sociali eccetera e questo appunto questo ministro delle finanze inflessibile si lancia in un quasi commuovente elogio della della scienza e dice sì noi siamo tutti preoccupati per il bilancio tutti diciamo sappiamo quali sono le nostre condizioni che non sono floride eccetera eccetera ma se noi vogliamo migliorare le nostre condizioni dobbiamo investire nella scienza dobbiamo permettere agli astronomi di guardare il cielo con gli strumenti migliori perché è così che noi miglioreremo le condizioni dell'Italia quindi è un un discorso assolutamente visionario e è come se l'avesse fatto a suo tempo Tremonti Tremonti che era quello che diceva con la cultura non si mangia ecco Quintino Sella tutti i ministri delle finanze italiani si siedono alla scrivania che fu di Quintino Sella quindi Quintino Sella è sempre una specie di diciamo nome protettore dei ministri delle finanze ebbene Quintino Sella dice signori noi dobbiamo dare fiducia agli astronomi e poi il giorno dopo scrive una famosa lettera diciamo manoscritta un bigliettino a Schiapparelli e dice mio caro il Parlamento ti ha dato una grandissima dimostrazione di fiducia e la stima che si ha di te è entrata moltissimo nel nel voto perché il voto è stato quasi un plebiscito diciamo così quasi tutti Quintino Sella dice tranne quelli che votano no a tutto ecco lui era un parlamentare di lunga lungo corso ti hanno diciamo riconosciuto hanno riconosciuto nella tua statura internazionale e hanno votato per te e quindi Schiapparelli ha potuto ordinare il il telescopio che poi è stato montato sulla nella seconda cupola di barrera io professoressa la ringrazio davvero tanto di quest'aneddoto storico perché da pubblico dipendente e quindi da chi rappresenta le istituzioni era un messaggio che volevo che arrivasse perché la pubblica amministrazione appunto deve investire nella scienza e l'aneddoto che lei ha raccontato nel suo ultimo libro era occasione per ricordarcelo quindi ora passo la parola a Francesca che ringrazio per il dialogo con la nostra grandissima ospite allora grazie mille Frida e grazie a Patrizia per essere qui con noi è veramente sempre speciale ascoltarla quando quando parla e vorrei cominciare dicendo che io ho incontrato Patrizia nel 2004 2005 ed è stata per me una di quelle persone fondamentali quei famosi role model di cui si parla tanto che c'è bisogno e che le ragazze hanno bisogno e l'ho incontrata quando ero in Francia e stavo facendo una borsa di studio che avevo vinto all'epoca con l'FP7 Leonardo da Vinci e quindi ero al CSR e stavo lavorando per tre mesi gratuitamente coperta dalla borsa in un progetto del centro e conoscendo lei e anche conoscendo Giovanni Bignani che all'epoca era direttore del centro e lei mi offrì la possibilità di continuare e credete in me e mi dette la possibilità con un piccolo contratto di lavorare nella ricerca e anche di potermi iscrivere quindi al master che c'era in planetologia scienze dello spazio all'università Paul Sabatier e da lì mi ha dato praticamente la possibilità di lavorare nell'astronomia tant'è che nella mia tesi di dottorato le ho dedicato il primo capitolo questo è un aneddoto per dire quanto le persone in realtà sono fondamentali e quanto è importante nel percorso come raccontavamo prima raccontava Patrizia che uno non sa dove va le persone che si incontrano sono veramente importanti quindi ancora la ringrazio per avermi dato questa possibilità e volevo parlare con Patrizia spero che le faccia piacere di questo suo libro che è uscito l'anno scorso abbastanza recente che si chiama Sidereus Nuncius 2.0 un titolo molto importante di cui lei racconta che gli è venuto in mente una volta perché adesso magari ce lo spiegherà meglio il primo l'1.0 è quello di Galileo Galilei e quindi si parla e l'ha aperto subito con uno di questi messaggeri che sono appunto i raggi cosmici ma ci sono tanti altri messaggeri e perché viviamo un momento Patrizia così di fermento in questo momento dell'astronomia cosa c'è in questi messaggeri che ci porta tutte queste novità e forse ci permette di avere un'immagine finalmente un po' più completa raccontaci un po' di queste ultime scoperte di questi ultimi avanzamenti tecnologici giusto appunto gli avanzamenti tecnologici perché la scienza avanza grazie a nuove osservazioni che si fanno con nuovi strumenti che per esempio le onde gravitazionali dovessero esistere si era accorto Einstein più di cento anni fa quando ha fatto i conti della della sua teoria della relatività generale e si è accorto che quando un corpo si muove perturba lo spazio intorno e fa partire delle onde gravitazionali è un concetto che ovviamente ai fisici era sempre piaciuto moltissimo però lo stesso Einstein aveva fatto due conti e aveva detto sì le onde gravitazionali ci sono ma questa espansione compressione dello spazio è talmente minuscola che non sarà mai possibile vederla e invece secondo me i fisici hanno diciamo così in qualche modo lo stesso DNA di Napoleone se mi permettete nel senso che Napoleone diceva se è possibile è già stato fatto se è impossibile si farà e quindi ci sono stati un gruppo di fisici forse visionari forse pazzi forsennati è difficile a volte discernere un carattere da un altro che hanno deciso di cercare di sviluppare una tecnologia per rivelare queste minutissime contrazioni e espansioni dello spazio quando dico minutissime voglio veramente dire minutissime noi parliamo di qualche cosa che è molto più piccolo delle dimensioni di un atomo quindi di un protone non neanche di un atomo tutto intero quindi è veramente un effetto incredibilmente piccolo che per cercare di sviluppare la tecnologia ci sono voluti 50 anni 50 anni di tentativi di fallimenti di illusioni c'è chi si è illuso di avere visto qualcosa ma poi invece non era vero non è stata confermata la misura e la cosa che io trovo assolutamente meravigliosa di questa storia è da un lato la perseveranza dei fisici che non si sono dati per vinti hanno cercato di risolvere incredibili problemi tecnici tecnologici veramente al limite dell'impossibile ma dall'altra anche il fatto che questi sono stati capaci di convincere le agenzie che finanziano questi tipi di studi a continuare a finanziarli perché voi immaginatevi tutti gli anni dovete andare a chiedere i finanziamenti tutti gli anni ti chiedono beh ma a che punto sei e tu dici non ci sono ancora però forse ho capito forse so dove devo spingermi per per arrivare quindi è stato veramente un una somma di molte capacità da un lato la capacità tecnologica dall'altro anche la capacità fisica perché c'erano folti gruppi di fisici teorici che facevano i conti e facevano le simulazioni sul tipo di segnale che ci si aspettava perché poi è guardando la simulazione che tu capisci che tipo di segnale tu stai vedendo e poi appunto c'era la gente dei centri di calcolo che doveva mettere lì incredibile capacità di calcolo tutto in tutto questo dovevano essere anche le persone convincenti capaci di andare a convincere le agenzie a continuare a finanziare lo sforzo e poi ci voleva anche una mente manageriale dietro che doveva mettere insieme tutte queste capacità quindi questa l'avventura delle onde gravitazionali è stata vinta grazie alla perseveranza alla visione alla follia ma anche alla proprio organizzazione perché tenere insieme centinaia di persone che devono lavorare tutte per perseguire lo stesso risultato e lo devono fare per molti anni è stato sicuramente difficile secondo me la parte più difficile è stata alla fine nel senso che quando hanno perché è successa uno scherzone di madre natura di quelli che uno veramente se li sogna oppure un incubo notturno nel senso che questi due incredibili strumenti distanti migliaia di chilometri negli Stati Uniti vengono accesi e si decide che li si fa andare qualche giorno per vedere che tutto funzioni che l'elettronica che il sistema di acquisizione dei dati che tutto vada bene prima di decidere ok iniziamo quello che si chiama il run osservativo il ma madre natura non ha nessuna voglia di stare di rispettare il timing che queste persone si sono date e appena gli strumenti vengono accesi arriva una botta di onda gravitazionale veramente terrificante veramente terrificante che i primi che lo vedono tra l'altro il primo è stato un postdoc italiano che lavorava in Germania ha sentito il bip bip ha guardato sullo schermo del computer il segnale ed è caduto dalla sedia ha detto è una cosa straordinariamente forte non mi sarei mai aspettato di vederla talmente forte che si è autoconvinto che fosse un test dice qualcuno ha inserito questa invece la mia gatta qualcuno ha inserito un segnale diciamo spurio un segnale gravitazionale ma messo dentro da un umano per fare un test di tutto il sistema fantastico però ha cominciato a mandare dei mail dicendo scusate chi ha messo dentro il segnale spurio perché a noi non era arrivata la notifica che ci sarebbe stato un test ma però voglio dire era sempre possibile e quindi tutti gli altri uno diceva io no tu no lui no lei no e alla fine sono arrivati alla conclusione che nessuno aveva fatto questa che si chiama blind injection e che quindi doveva essere un segnale vero che è arrivato prima che iniziasse il run osservativo vero e proprio a quel punto tutti dovevano stare zitti perché bisognava fare un po' di cinema nel senso che giustamente la National Science Foundation che aveva dato i finanziamenti per decenni a questo strumento voleva fare una bella figura a livello mondiale quindi bisognava fare bisognava a scrivere il lavoro b bisognava che una prestigiosa rivista lo accettasse e a quel punto bisognava fare una mega conferenza stampa per dire signori abbiamo dimostrato che Einstein aveva ragione e quindi abbiamo avuto uno straordinario risultato quindi questo significava che tutti dovevano stare zitti e tutti stare zitti vuol dire che centinaia di persone non possono neanche parlare con l'amico della stanza vicino non possono dire sai che bel risultato che abbiamo avuto tutti cittomosca tutti con le porte chiuse non si stampava niente sulle stampanti per terrore che qualcuno vedesse il titolo del lavoro eccetera è stato un momento assolutamente difficile proprio perché è molto difficile mantenere un segreto e infatti non ci sono riusciti perché hanno cominciato a venire fuori dei tweet sembra che abbiano visto un'onda gravitazionale se l'onda gravitazionale potrebbe essere così e non cos'ha e quindi poi alla fine hanno fatto la conferenza stampa eccetera ma quello che hanno detto era già stato era già percolato per la comunità comunque è stato un momento epocale ed è stato un momento epocale anche per l'astrofisica perché il diciamo la sorgente dell'onda gravitazionale in questo caso era una coppia di buchi neri che prima dell'evento gravitazionale non si era neanche tanto sicuri che ci fossero coppie di buchi neri perché non si erano mai viste si erano viste il buco nero singolo il buco nero con una stellina che gli gira intorno un sistema binario di stelle di neutroni che sono stelle collassate ma sono ancora entità visibili diciamo così non sono elusive come il buco nero e quindi improvvisamente si scopre A che esistono i sistemi binari fatti da due buchi neri B che questi due buchi neri sono dei dei buchi molto massivi sono hanno 1,30 e 1,40 masse solari che è una roba che gli astrofisici sarebbero stati pronti a giurare sulla loro mamma che non si potevano assolutamente formare perché diciamo non è banale le stelle più grandi che conosciamo arrivano a malapena a 100 masse solari e da una stella di 100 masse solari è estremamente difficile formare un buco nero più grande di diciamo 10 masse solari perché un sacco di massa della stella viene usata per fare altre cose quindi c'era solo una collega di Padova Michela Mapelli che aveva sviluppato una teoria di questi buchi neri ciccioni ma voglio dire era abbastanza una voce nel deserto tutti gli altri dicevano no no assolutamente non se ne parla neanche e invece aveva ragione lei si formano e come se si formano quasi tutti gli eventi gravitazionali adesso ne sono stati censiti 90 quasi tutti gli eventi gravitazionali sono fatte da coppie di buchi neri proprio una manciata è fatta da coppie di stelle di neutroni e ce ne sono un paio che potrebbero essere delle coppie miste una stella di neutroni e un buco nero però diciamo la grande maggioranza sono dei buchi neri belli solidi e un'altra volta la natura che ci stupisce con delle cose che non ci si aspetta non solo la scoperta ma anche qualcosa che ci dice che quello che pensavamo o le teorie che avevamo fino in quel momento in realtà non è che poi descrivono la natura come noi pensiamo sempre al 100% e volevo riprendere due cose che mi sono piaciute molto del discorso di Patrizia se ancora ho qualche minuto del tempo di Patrizia a disposizione e sono una il fatto dell'avanzamento tecnologico e della perseveranza molti pensano ai fisici come un po' dei pazzi proprio perché bisogna dedicarsi alcuni dedicano l'intera vita ad un progetto per vederlo per vedere poi a malapena prenderli i primi passi incominciare a fare i primi passi però mi ricordo questa cosa io ero ad un meeting al Royal Observatory di Edimburgo e c'era un all'epoca era una studentessa di dottorato e stavo presentando il mio lavoro di dottorato e c'era questo ragazzo che era venuto dall'America e stava presentando le prime simulazioni e i primi risultati sintetici delle curve di LIGO che è quindi il detector per le onde gravitazionali ed eravamo dieci ordini di grandezza da colmare questo gap ed era il 2007 quindi tra il 2007 e il 2015 in sette anni più o meno a seconda dei mesi sette otto anni abbiamo colmato un divario pazzesco per dire l'avanzamento tecnologico che c'è stato e anche della comprensione da parte degli scienziati quindi è veramente un momento particolare quello che stiamo vivendo anche perché i futuri c'è l'advanced Virgo e l'advanced LIGO anche perché molti non sanno ma noi in Italia abbiamo uno degli interferometri con i quali si rivelano queste onde gravitazionali che è Virgo e Akashina e in realtà abbiamo un aumento della nostra sensibilità quindi la possibilità di scoprire questi oggetti e siamo in attesa del prossimo della prossima presa dati ranno osservativo che dovrebbe cominciare verso novembre e dicembre di quest'anno e invece la seconda cosa che volevo sottolineare è l'importanza di avere dei finanziamenti cioè l'importanza che la ricerca pura perché qui si è trattato per tanto tempo di teorie che la gente cercava di poi mettere in pratica però che vanno finanziate e quindi quanto è importante Patrizia avere il finanziamento della ricerca pura perché poi le nuove idee le nuove strade si tracciano facendo ricerca pura che poi trova migliaia di impatti anche nella vita comune di tutti quanti però è veramente importante avere un finanziamento anche come paese è veramente importante puntare sul finanziamento della ricerca assolutamente assolutamente voglio dire il finanziamento è fondamentale poi ci sono ovviamente diversi tipi di finanziamento c'è il finanziamento che ti permette di fare l'attività di tutti i giorni il finanziamento ordinario ma se tu hai per esempio un'idea se tu vuoi partecipare un progetto così allora hai bisogno di più soldi perché per esempio che so io tu hai sviluppato una qualche tecnica astuta che sarebbe bello mettere su un satellite e allora ti metti insieme a tutta una serie di colleghi in giro per il mondo e ognuno mette un sottosistema un pezzetto per arrivare ad avere un sistema intero per e quindi chiaramente in questo caso tu devi dare dei contratti industriali devi fare prima uno studio di fattibilità poi devi fare realizzare lo strumento e nel caso di strumenti per esempio spaziali si chiede il finanziamento all'agenzia spaziale italiana io ho sempre lavorato con fondi della dell'agenzia spaziale italiana che è proprio l'agenzia che gestisce tutte le attività spaziali scientifiche e non scientifiche ovviamente nel mio caso erano quelle scientifiche ma invece che so io stiamo l'INAF l'istituto nazionale di astrofisica collabora è uno dei soci fondatori di questi grandissimi strumenti a terra che sono lo square kilometer array per la radioastronomia e il Cherenkov telescope array per l'astronomia gamma quindi le astronomie più distanti tra di loro quelle che studiano le onde radio quindi le onde più lunghe e quelle che studiano i raggi gamma quindi le onde più corte 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 più energetiche e per questi finanziamenti per questi strumenti che non costano tanto quanto un satellite ma più o meno quasi bisogna mettere lì decine di milioni di finanziamenti ovviamente non tutti insieme diluiti nel corso di diversi anni ma in questo caso si chiede si chiedono dei finanziamenti ad hoc per al ministero dell'università e ricerca adesso ci sono anche molte idee di strumenti da e si chiede di finanziarli con il PNRR perché sono dei fondi diciamo così freschi e se uno ha delle idee innovative sembra che sia un buon modo per investire una piccola frazione del PNRR ovviamente ma sì è assolutamente fondamentale poter contare su dei finanziamenti come dicevo io sono sempre stata ragionevolmente fortunata perché sono sempre stata coinvolta in grosse missioni spaziali che diciamo più o meno automaticamente poi niente automatico nella vita ma venivano finanziate diciamo che venivano considerate per il finanziamento altri miei colleghi hanno una vita molto più dura e molta parte del tempo dell'attenzione degli sforzi degli scienziati non solo degli astrofisici va proprio nella ricerca di finanziamenti nello scrivere progetti regionali progetti nazionali progetti europei cioè è una che toglie tempo alla ricerca che invece un ricercatore vorrebbe dedicare più tempo alla propria ricerca non ti puoi permettere di dire no io faccio faccio solo la mia ricerca perché se vuoi avere dei dottorati quindi dei dottorandi se vuoi avere dei finanziamenti per dare dei contratti a tempo determinato per formare le nuove leve così devi avere dei soldi disponibili da investire in questo e quindi lo lo sforzo non è non è divertente è molto più divertente scrivere un articolo scientifico ma è necessario esattamente quindi io ti ringrazio tantissimo Patrizia perché veramente sarei qui a parlare per delle ore è veramente un escursus direi a 360 gradi fa capire insomma l'importanza non solo di studiare la scienza ma anche di fare innovazione innovazione tecnologica e dà una chance ai ragazzi che potenzialmente ci ascoltano di capire l'importanza di guardare con un occhio interessato alle materie STEM quindi alle materie di scienza tecnologia ingegneria e matematica e soprattutto alle ragazze per le quali molto spesso ci sono dei pregiudizi quindi ti ringrazio ancora passo la parola a Frida per una conclusione finale e a te quindi Frida il microfono sì io approfitto davvero dell'ultimo minuto perché penso di aver sforato ma professoressa non posso che lei nella sua prima risposta ha citato visione follia questi termini oggi evocano Elon Musk io ho letto tutto dunfiato il suo il cielo è di tutti ce l'ho qua davvero quindi lo consiglio vivamente di dare tradizioni perché è un tuffo velocissimo ma apre molto la mente in un passaggio lei dice appunto parla di satelliti starlink con questo studiamo naturalmente e questa cosa darà del filo da torcere a lunosa comporterà una revisione del trattato internazionale dello spazio chi dica una sua opinione noi speriamo di sì è assolutamente necessario ma non tanto per i problemi che questi satelliti causano agli astronomi perché gli astronomi sono capaci di difendersi diciamo così il vero problema di questi satelliti è un problema di tipo di ecologia globale nel senso che rischiano di intasare lo spazio uno pensa che lo spazio sia infinito no non è infinito lo spazio è finito e questi satelliti pensate che gli starlink tra di loro si avvicinano diverse volte alla settimana a meno di un chilometro e questi satelliti vanno a 8 chilometri al secondo quindi è un attimo che ci sia un piccolo errore di posizionamento e che questi si scontrino e se si scontrano fanno una nube di detriti che poi vanno a tampinare tutti gli altri oggetti che sono nella stessa orbita quindi il nostro problema vero adesso è la gestione del traffico orbitale non ci sono vigili nelle orbite perché non c'è una legge per l'ottimo motivo che il trattato sull'utilizzo pacifico dello spazio è stato fatto alla fine degli anni 60 quando questi problemi non si ponevano è un esempio di come lo sviluppo tecnologico vada molto più veloce della legislazione che in qualche modo deve dare un apparato di controllo alla fine secondo me questa materia è ovviamente all'attenzione dell'ufficio delle Nazioni Unite per lo spazio esterno diciamo così ma io credo che arriveranno prima gli imprenditori stessi che si renderanno conto che per non farsi vicendevolmente del male quindi per non rovinarsi vicendevolmente il business devono sottostare a qualche tipo di regola perché in questo momento lo spazio è il far west non perché quelli che Elon Musk Jeff Bezos e tutti quelli che lanciano satelliti siano dei malfattori ma perché non c'è una legge che in qualche modo dica non si possono lanciare più di tot satelliti in questa orbita cioè non c'è non c'è modo di tenere la situazione sotto controllo e noi rischiamo che la situazione vada fuori di controllo e se va fuori di controllo signori diventa difficilissimo quindi con questo ringraziamo la professoressa Patrizia Caraveo che ci offre anche l'opportunità e chiudiamo per dire che non è una materia solo per astrofisici e ingegneria e spaziali ma anche che per chi si vuole avvicinare al diritto spaziale perché appunto è un ambito di collaborazione internazionale pertanto anche gli studiosi di materie giuridiche possono sicuramente essere affascinati ed essere conquistati dalla luna e qui potrei anche aprire un altro dibattito sull'altro sul libro bellissimo ma mi taccio perché professoressa meriterebbe un'altra puntata lei ci insegna ma volentieri grazie di cuore per averci avuto questa visione davvero e questi spunti di riflessione così importanti la ringraziamo davvero di cuore grazie a voi buon lavoro grazie a tutti grazie a tutti